Ciao a tutti i miei Shidub, sono Alex e vi porto il deck profile Venominaga Iniziamo Una Venominaga che penso sia sufficiente 3 Venominon 3 Boa Veleno che cerco 3 Vipere Veleno che cerco 3 Serpenti Veleno che cerco Come mostri E non so, ditemi voi se devo giocare Il 2 o 1 o 2 TK Perché non lo so Scusate che è in letto in ordine Poi Come trap E come magia, scusate Bucco nero Reborn Li cerco Un Ivi Storm Come roba un po' classica diciamo 2 limite area B che cerco 2 Tifoni E basta Come 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 aspettate Ah no aspettate, come magia 3 palude veleno Poi Poi 2 pod Cerco tutto Come trap 3 pioggia di serpenti Che due falle Che due richiamo del posseduto Che cerco Cerco Tutte quelle proxat che avete visto Li cerco 3 di questi che ce li ho 3 di questi che ce li ho 3 di questi che ce li ho E basta Alla prossima Ciao 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 Ciao